Salve, benvenuti a Scoppia Hardware, questo è un messaggio politico a cura di Scoppia Hardware, culturale e di intrattenimento. Bip! Vai Pingo Party. ROMANIA! Bella Guagliari da Scoppia Hardware, sono Nocola, sono io, tu sei Pingu, ma non è vero, ti vedo, sei Pingu, guarda, guarda, io sono Nocola, lui è Nocola, cioè lei, lui non lo so, vabbè, no, non sta qua, va bene, Bella Guagliari da Scoppia Hardware, io sono Nocola, lui è Pingu, lui è Nocola, lui è Pingu, lui è Nocolo, grazie potessi accoltate气, bello, ok, e oggi siamo con l'episogio NAPF, po' pararock, palar", faccio toccara di mano, che c'è, specchi, i 400 gr of i di locuris stanno scendendo mi sto a testo registrare un pc fu frizzi, una bGA, la internetizia, la internetizia, la camera. e siamo l'episodio number five di amena e amena no no ma dovete guardare il nonno che sta facendo perchè allora si sta scopando un microonde di cosa sta facendo vabbè e niente siamo con le più non c'è un cuore amica c'è la farà di mi parte parte l'inizio alas vado ok e se volessero 5 del 2 cacchio apri pingo eeeh se che ti chiudo usciamo cazzo ci fa il nonno dentro e chiuso dentro no no aiutando ex un cecchino pinguano c'è proprio c'è poveri cecchino oh che cazzo è alessi c'è inizio a metterti davanti e cioè c'è uno zombie di me mi ciro vedo che ti mi spari poi si sa guarda del culo cazzo vuoi ti sceghi più che mi vedo un mese però ragazzo siccome ho visto in un film ora a giudizio a testo mo perché che è sbomato testo il scherzo c'è il temporale aia aia per ragazzo ti visto in un momento tutta cosa qua sono al buio oggi parlavo troppo l'ora baios e non vuole ma che succede salve il cappello ma la sua vita è limitata seguita e anche questa volta da seguire pico forno mani non ti sono il piccolo c'era un hunter lì che non so se se è suicidato buttare di sotto io spero al muro vabbè boccia ronanza non so dove sia finito c'è c'è ancora semplice che vuoi avanti nonostante michi ma b concordo concordo sono pienamente d'accordo perchè non ecco salite ritardati mamma bingoni un pittà almeno non a me non è fatto un cazzo e non mi pare ragazzi tetto dove il tetto esperma il mondo in alto c'è quello che striscia c'è quello bruttissimo 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 vede vede a testa di fare la scala siamo sulle tette l'interessa spera inserita vengo 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 compagnia la campagna elettronica d'articolo a pvd quattro facciamo da dai rossi porto ma sono da qua 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 con la prima cosa non so in più amicato per romania io vuoi tutto in Italia tutti gola arrivederci ok grazie ma la sua data mi piace che facciamo il quale sei ma lo so cascato di sotto dalle 6 la scuola che brutta cosa per un segretario alle spalle sede compromettenti certe frasi anni fa il quale ma non mi fate male se è detto che si dico coprisci un attimo ieri guardami sarve benvenuti a scoppiare questo messaggio politico a cura di scoppiare culturale di intrattenimento b vai pingo parti ok buonasera basta andiamo avanti guarda quante bombe ah qui arriva un'orda della madonna probabilmente bombe per romania nico vieni qua prenditi una pasta nico vieni qua prenditi una bomba nico prenditi una bomba della pippa quella che piglia dove si sa le scale prendete pronti soccorso allora ragazzi qua c'è da spaccarci il culo bia si apprezzare a rispondere a fare l'elicottero e con la piaccia nico la via lato dove la radio ma se mettiamo un attimo così la c'è un mitraggione effettivamente epica questa cosa c'è che ma mi sono visto un piede sopra al mitra io ho fatto p ma dove ho la radio e questo è unico e perchè mi è piaciuto come tu unica sporgenza e capito rispondi alla radio eccola pronto chi c'è sono ping for romania sono ping for romania taglio gola se tu lo vieni a prendere a noi nico 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 qualche è che piglia la minigun io io sono abiti la bomba mi metto nico la che non c'è sport nico la che non c'è sporgenza ragazze arriva l'orda dove fra poco a te lo dice orda sulla sponda basse attenzione si sta caricando un'orda della madonna dc e' un'orda e' un'orda ora appare alleluia alleluia dai ragazzi spese 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 argentino spese di zanita argentina raga spese spese pubblicità salvataggine arrivo difendetevi dal salvataggine arrivo ma io non so che cosa perchè senti tutti un cane abbaiare Berlusoga eroe di parol 12 vai poco ha toco giochi 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 aскимia asumur vaso tu non non io io non molto molto io don dar ci risalgo il popolo oc o ciao ciao il mondo romani a porto ottenuto l'archivamento di flesso acido c'è il senso è saltato con il cacchio soppiando fuoco ragazzi per questo per questo caso la parola cosa cosa il porto caeva ma sei difficile non lo so no sono non sono nicolò ma hai detto che in fin di vita mi devo curare adesso guarda che dice che sono una cosa che si usurde i campi e allora arrivato il cartone che si ingassa perchè non ho usato dei forbici con la puntata il tuo salto a questo giorno carattina di barbomb non abbiamo più scusate sono tutte quale barbomb lo so io da me nemmeno da me nemmeno io ho arrivato un fumatore piccoli ma che c'è il fumatore che il pubblico a portare con quella rai sti stile proprio guarda nonno vai nonno vai nonno per te per tutto c'è un peccato io ho avuto tanto per te ci sono da sopra no no a perché sono io e non è che è che scusate non è che è stato non è che si non è che 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 non è da qualche parte Anter, hunter everywhere Ok, ho tirato un'altra bomba Pippi Ce l'avevo dietro, non me ne ho accorto Ma perché arrivano in camice, Stis? Mi co... Non vuoi prendere, oh, cazzi, i mitraglioni Oddio, Pingo, ma... Nicola, Nicola Che cacchio ti sanno vedendo, gli orgasmi è stato... Oddio, ma perché... Perché mi butti di sotto? Ma perché mi salti... Shhh Si, nicola, c'è un elicottero Devi un bacino Vieni qua, siamo vicini vicini, vi ricordi di qua Oddio, ciccciore, ciccciore di merda Che cazzo li dai proprio? Così, i nostri non puoi capire Signore e signori Signore, si sta riempito in questo momento ci sta facendo da ischietà e alloggiare questo Poi da votarlo per la Romania e per l'Italia Per il viso, per tutti ultimo per la città del vaticano per lituani e venezuela la russia l'argentina per tutto vado a vincere basta per la febbra che si deve andare stiamo stiamo degenerando la febbra di occhi avrà sentito la canzone da sessate disegna balottelli sarà sessate di trombi balottelli compromettente propria in questo caso ragazzi io fido la salvedere va bene che siete entrambi neri oddio pietro io ho davanti 3 ma quanto ci mette sto mongolide con l'elicottero aspetta ma ci sarà pietro testa un sacco usata deve mi è mancato portato è stato pittone dove dammi la mano dopo un po' a tuo modo mi rovo ma stai colpendo mai io ho mai vabbè portate che la fine coccina dubbio il titolo dal titolo ore 12 le città senza salendo sopra ote chiede dietro l'elicottero grazie a tutti i rumori e ciò si scuola paio 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 dove dobbiamo andare io scappo come una fighetta ciao stronzi c'è un ciccione disgraziato traditore tecnici tecnici al tank via 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 mi ha detto se non è il caso non è il caso la scuola non è il caso non è il caso non è il caso no l'antico vasando portati in salvo interesse un ringrazio un ringraziamento deve andare a tutti i santi che vivono in questo mondo e nel paradiso per avermi salvato mi consente di terminare questa serie oddio va bene alla fine siamo riusciti ad essere i survivor sono fuggiti yes like a boss ok ragazzi sui titoli di coda visto che non sono i titoli di capo ho detto una micchiata e direi che per questa serie è tutto ci vedremo alla prossima serie che direi ecco io non ci ero sicuro mettete mi piace per gli urli di pingo che è importante è una cosa importantissima sostenete la campagna elettorale di pingo pingo for romania e soprattutto iscrivetevi al canale se lo so ciao ciao ciao